Ogni mese 72 chilometri di strade, il 40% della città. Sono i numeri di un vecchio spot promozionale di quadrifoglio sull'utilizzo di Sweepy Jet, l'attrezzatura che consente di pulire le strade senza bisogno di spostare le macchine parcheggiate. A Firenze fu fortemente voluto dall'allora sindaco Matteo Renzi nel 2010. 200.000 euro sono invece i soldi che ogni anno il comune paga a Publiacqua per pulire le caditoie dei tombini e 100 euro tra multa e rimozione è invece quanto dovrà sborsare chi da settembre non rimuoverà la macchina. Insomma, tra ondate di maltempo, allagamenti e intasamenti massicci e improvvisi, Sweepy Jet non ce la fa. Si torna alla vecchia pulizia delle strade, almeno una volta al mese. Poco cambia per quelle zone della città che il braccio alzato della tecnologia non lo avevano mai visto, ma gli altri, che ormai si erano abituati a non pensarci più, dovranno fare attenzione. Insomma, oddio c'è la pulizia, devo spostare la macchina, tornerà nei pensieri dei fiorentini perché le strade e soprattutto i tombini vanno puliti meglio per evitare i danni peggiori nel momento della bomba d'acqua. Publiacqua ha dichiarato di aver pulito il 90% delle caditoie nel 2014 e il 50% quest'anno, ma la pulizia ordinaria resta fondamentale, quindi da settembre c'è da spostare la macchina.